Era una gara complicata viste le tante assenze, peccato che due piazzati abbiano vanificato gli sforzi per più di un'ora di gioco dall'Udinese. Io credo che abbiamo fatto tutto quello che in questo momento è nelle nostre possibilità, purtroppo. Siamo in grande difficoltà, ma anche chi ha giocato ha fatto bene. Oggi avevamo un centrocampo composto dal 98 che aveva due partite in Serie A, una, un 97 e un 96. Hanno fatto anche una buona partita, però purtroppo quando mi chiedono il cambio e ti giri in panchina e non hai un centrocampista diventa anche oggettivamente difficile. Visto che gli allenatori piangono tutti, allora adesso piango anche io un po'. Io cerco sempre di essere positivo e non pensare a quelli che ho, però poi ovviamente quando c'è tanta delusione bisogna anche ricordarsi con oggettività quelle che sono le problematiche in questo momento. Oggi ho dovuto cambiare con 5-6 moduli perché ogni volta che entrava uno non avevo un giocatore adatto a un determinato ruolo e dovevo cambiare tutto. Siamo in difficoltà, dispiace perché i ragazzi oggi hanno dato tutto quello che avevano. Abbiamo preparato la partita in questo modo, cercando di contenere e ripartire. Sapevo che non avremmo avuto tante occasioni perché è difficile contro l'Atalanta. Li abbiamo contenuti discretamente bene e poi peccato perché ci hanno fatto questi due gol. In questo senso adesso abbiamo scordato un po' anche le sue dichiarazioni in conferenza stampa. L'obiettivo è proprio quello di cercare di recuperare qualche pedina. Per martedì aveva accennato alla possibilità di rivedere per qualche minuto in campo Lasagna. Non so, Alfredson o qualche altro giocatore potrà ritornare e potrà esserci un udinese con qualche arma in più in vista della partita con la Fiorentina. Sì, ma quantomeno ad avere qualche cambio, qualche alternativa anche in panchina perché così diventa veramente difficile. Noi dobbiamo fare sostanzialmente a livello di concentrazione quello che abbiamo fatto oggi, di solidità perché comunque siamo stati solidi e cercare di fare qualcosina in più ma ovviamente per fare questo ci vuole anche un po' di qualità e recuperare giocatori importanti sarebbe fondamentale.